Passiamo ad un altro monologo e parliamo di un attore, un attore quando si dimentica le battute va nel pallone in effetti comincia a pensare di tutto ma non gli viene in mente niente perché deve cercare le battute eccolo qui, Lorenzo Marinozzi Abbiamo parlato di Brignano ma adesso parliamo del grande maestro di Gigi Proietti lui ha iniziato questi one man show con Megliocchi Please, ha rivoluzionato il modo di fare il teatro l'ha portato in tutte le piazze e aveva fatto questo monologo tantissimi anni fa, credo una ventina il titolo del pezzo è l'Orlando Furioso, sì, smemorato, prego Buonasera, buonasera a tutti, oggi io interpreterò l'Orlando Furioso smemorato già, purtroppo uno dei più grandi problemi dell'attore è quello di dimenticarsi le battute infatti un giorno, mentre ero a casa, il mio impresario Cacace mi chiama e mi dice che devo interpretare l'Orlando Furioso, ma io non sapevo nemmeno una battuta, perciò mi sono dovuto affidare al mio suggeritore, ma oggi io quella parte la so, entro in scena con la mano sulla spada e dico, ha, 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 ecco la mia fedele armata, vedete? Me la ricordo, la so, entro in scena e dico, ha, 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 oh, oh, sei pronto? Dai, che tocca a te, sei pronto? Sì. Ok, è regolare, allora, mo te tu spiega un attimo una cosa, perdonami, allora, a me mi hanno mandato qua, perché so che tu non sai niente, io so il suggeritore, manco io so niente, appunto c'è il suggerimento, capito? Sì. Ma te che te frega, andiamo, va? Ok, buonasera signore e signori, e questa sera lui andrà a presentare un, un monologo, l'Orlando, l'Orlando, che squillino le trombe. C'era Orlando che, galoppando sul suo cavallo bianco, percorreva le vie delle colline. A un certo punto, Orlando scende da cavallo, gli dà una bella pacca sul culo e, in pratica, ma che sta a fare? Ha fatto la cacca. Cioè, scusa, tu ce metti il piede, tu ce metti il... Vabbè, porta pure fortuna, è meglio. Senti, famo una cosa, andiamo avanti e cominciamo, che è meglio. Daie, vai. Ha, ha, ha! Ecco la mia fedele armata. Ecco i miei antichi compagni d'armi. Ha, 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 ha. Ecco i miei antichi compagni d'armi. Ecco i vestiti puliti ai bagni. Saluto i miei prodi. Saluto la prole. Avversari, tremate. Gregari, remate. Tremate. Remate. Tremate, tremate. Tremate, remate tanto. Io sono il feroce paladino. Io sono il precoce patatino. Feroce paladino. Precoce saladino. Paladino. Pinguino. Paladino. Pisellino. Ah, 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 ah. Andiamo avanti, va. Intorno al mio nome. E sotto al portone. Alberga una terza leggenda. Ah, 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 ah. Alberga una terza leggenda. Alberta si è persa l'agenda. Per sensazioni. Per certe questioni. Cari mie prodi. Cara mia prole. Io sono obiettivo. Io sono cretino. Io sono obiettivo. Obiettivo. Io sono cretino. Come se non se ne siamo mai accorti. Andiamo avanti, va. Infine, in breve. Peppino il greve. Amico di Orlando. E sempre ballando. Orlando. Armando. Orlando. Armando di Uval. Vabbè, andiamo avanti, va. Senti, t'ho detto di no. No. No, no, no. No, no, no. No. Madonna mia. Io sono contento. Contento. Io sono un portento. E fiero. E pieno. Pieno di che manco magnato. Ti porto con me. Trippa non c'è. Non mi sono perso il segno. No, aspetta. Ah, eccolo. Vabbè, ti porto con me. Con un lutto nel cuore. Con un rutto del cuore. Non sei sicuro? Sì, c'è scritto. Per vedere il valore. Per vedere il vagone. Che perduto sarà. Che cornuto e cornuto sarà. Vaffanculo. Vabbaccio. Ma vi avevo detto le parolacce? No. Ah, c'è scritto là. Quando c'è mo' c'è mo'. Con me da una roba a pensare che c'è scritto. Bravo, Lorenzo. Allora, dobbiamo dire una cosa. Che Lorenzo, fino a un mese fa, era in regia. Stavi con i ragazzi. Ma non l'hai abbandonato, vero? Ritorni. Certo. Certo. Grazie. Bravissimo. Grazie anche a Roberto, che li ha fatto da spalla.